Il mio rapporto con questo autore, Henry Purcell, è iniziato agli inizi del 90, degli anni 90, in una maniera insolita per un musicologo, in quel periodo io suonavo ancora lo strumento che mi aveva da sempre affascinato, il liuto, e avevo deciso di fare una riduzione pazza per poche voci e strumenti di una semiopera di Purcell, La Regina delle Fate, la intitolammo, cioè The Fairy Queen, e in quella strana produzione che fece un bel giro per l'Italia cantava forse per una delle prime volte nella sua carriera, allora agli inizi perché era quasi una bambina, Roberta Invernizzi, che sarà la protagonista di questa produzione. Un soggiorno di studi con una borsa di studio al Warburg Institute a Londra mi ha consentito di avere accesso sempre negli anni, metà degli anni 90, alla immensa bibliografia parselliana e così decisi, altra pazzia, di scrivere da italiano un libro sul massimo compositore inglese. Una responsabilità davvero alta, grande, perché capire la musica di Henry Purcell implica uno sforzo maggiore per chi non è all'interno della tradizione britannica. Il libro appunto uscito nel 99 ha costituito per anni per me una grande soddisfazione perché ero stato accettato nel gruppo dei parselliani britannici, per cui ho diverse testimonianze insomma che era stata gradita questa intrusione di un continentale nella loro tradizione. In realtà ho detto già una cosa significativa. Questo autore è il più importante compositore inglese di tutti i tempi. Lo in qualche modo avvicina ma non riesce a superarlo Benjamin Britten nel secolo scorso che non per caso è stato uno studioso ed un appassionato di Purcell, è stato uno degli artefici della riscoperta parselliana nel Novecento. Si potrebbe pensare, è facile che ci sia un autore soltanto, visto che noi non conosciamo quasi nessun autore importante inglese e questo è appunto il lato difficile della nostra storia perché, come dirò più volte, Henry Purcell rappresenta la punta di naturalmente qualcosa di molto più grande, di qualcosa che esisteva, addirittura di un progetto di opera nazionale inglese. I frutti si spensero troppo presto di questo progetto perché questo autore, come altri autori della storia della musica occidentale, è morto troppo presto, troppo giovane, nato nel 1659, si spense nel 1695, a meno di 37 anni. Il suo esordio è un esordio classico di autore di corte del Seicento, può valere per qualsiasi parte d'Europa, ma la situazione inglese era diversa da quella del resto d'Europa, perché la corte era tornata solo da pochi anni ad avere una vita ufficiale in Inghilterra e nei pochi anni di vita Henry Purcell riuscì a percorrere tutti i gradi di successo possibili, dalla musica sacra alla musica negli appartamenti privati, alla musica di corte e poi il teatro pubblico. Uno dei punti di partenza che vorrei proporvi per capire Didone ed Enea è il ruolo di Henry Purcell nella creazione appunto di una opera nazionale inglese. Per capire questo e per capire il suo ruolo così importante nella storia della musica universale dovremmo tenere presente che le due forme egemoni nel Seicento di fare opera, come molti di voi sanno, erano l'opera italiana e l'opera francese. Quindi due forme di opera che gli inglesi giudicavano continentali e molto diverse tra loro in opposizione in alcuni momenti. Il punto quindi di arrivo della nostra storia doveva essere quello di creare una terza opera, un'opera britannica e su questo appunto ci sono alcune implicazioni e alcune, purtroppo alcuni fallimenti, ma ci resta almeno un'opera che è quella che appunto potrete gustare nei prossimi giorni di Didone ed Enea. Le influenze sono quindi uno dei lati importanti, cioè prima di poter aprire una terza via inglese all'opera, Henry Purcell da ragazzo si è dovuto confrontare con due tradizioni imponenti musicali e non soltanto nel teatro d'opera ovviamente, la tradizione italiana e la tradizione francese. L'importanza della tradizione francese per esempio è legata al fatto contingente del ritorno di Carlo II, il sovrano che nel 1660 tornò trionfalmente a Londra dopo molti anni di esilio, dopo 18 anni di esilio, forzato dalla parentesi della rivoluzione di Cromwell, fece riaprire i teatri e però il primo impulso fu quello di orientare il gusto a quello che aveva imparato nel suo esilio a Versailles dal cugino Luigi XIV, ossia il gusto per la musica francese, soprattutto per i tipi di spettacoli alla francese. Il contatto con la musica italiana però era ugualmente fortissimo per tutti i compositori e tutti i musicisti di Londra, per la continua affluenza di musicisti, di cantanti di passaggio, ma anche dei viaggiatori inglesi che tornavano dal continente portavano testimonianze delle meraviglie che avevano ascoltato nei teatri italiani, nelle città italiane. Allora io vorrei cominciare a fare un brevissimo percorso per capire queste tre vie, la via francese, la via italiana, come si possono collegare ad una tradizione autoctona inglese che è quella in cui cresce il giovane Purcell. Inizierei dall'ascolto di un brano di un collega di Purcell, Pelham Humphrey, che era subentrato al maestro comune che era Captain Cook come maestro dei paggi della corte di Carlo II del re di Inghilterra e in qualche modo dimostra l'attenzione dei musicisti inglesi di quella generazione alla musica italiana. Questo compositore di cui credo pochissimi abbiano sentito nominare o sicuramente pochissimi avranno sentito la musica, Pelham Humphrey, ebbe una strana borsa di studio dal re Carlo II per spendere tre anni di viaggio in Francia e in Italia e trovare il meglio della musica di questi paesi. Ecco, questo brano di cui sentiamo l'inizio può dare un'idea di quello che aveva ricavato questo compagno di lavoro di Purcell. Possiamo sentire il brano 1. Atmosfere che sembrano più familiari se pensiamo alla musica italiana di quel periodo. Alla morte di Humphrey gli subentrò come maestro alla corte di Carlo II un altro grande amico di Henry Purcell che ebbe una mutua influenza, John Blow. John Blow, lo vedremo, è tra l'altro legatissimo anche alla storia di Didone e Denea, è l'autore dell'ode per la morte di Henry Purcell che volle scrivere e far eseguire immediatamente dopo la notizia della morte dell'amico nel 1695. Per cui ascoltiamo l'inizio della seconda parte di questa ode perché in questa parte è citato anche il cognome dell'autore. Abbiamo una prova che non si legge alla francese ma che si deve leggere per forza con una pronuncia sulla prima sillaba, quindi non Purcell. Sentiamo. le vecchie John Blow, Monteverdi, una generazione più tardi, il tipo di espressività legata al recitativo. Come sappiamo che c'era un progetto di cui Henry Purcell era parte? Da una dichiarazione dello stesso autore che fu pubblicata in un libro stampato a Londra nel 1683 di sue sonate a tre, Sonatas of Three Parts, in cui dice nella prefazione queste parole che sono formidabili da un certo punto di vista. La poesia e la pittura sono giunte nella nostra nazione alla loro perfezione. La musica è ancora bambina che dà speranza di vedere un giorno ciò che potrà esserci in Inghilterra quando i maestri vi troveranno il giusto incoraggiamento. Essi per il momento imparano l'italiano, che è il migliore dei maestri, e studiano anche un po' di aria alla francese, per aggiungervi un po' di allegria e di gusto. Così, essendo i più lontani dal sole, noi cresciamo in ritardo rispetto alle nazioni a noi vicine e dobbiamo accontentarci di spogliarci gradualmente della nostra barbarie. Ecco, dietro questa ironia, autoironia, c'è un atteggiamento veramente da isola. L'orgoglio di essere diversi in tutti i casi. Sì, con la modestia di dire stiamo imparando, ma perché vogliono imparare l'italiano e il francese? Per diventare una cosa diversa, una terza possibilità. Quindi l'obiettivo di questo progetto, sicuramente instradato da un grande intellettuale amico di Purcell, che tutti gli esperti di letteratura inglese riconoscono come il dominatore della letteratura inglese di quel periodo, John Dryden, era quello di formare un'opera nazionale inglese, perché l'opera nazionale inglese poteva riportare, secondo il volere del re Carlo II, l'Inghilterra a sedersi alla pari con le grandi nazioni di quel tempo. Era parte, insomma, della ideologia della Restoration Age. E allora qual è il contributo francese a questo punto alla formazione dei musicisti inglesi? Beh, questa parte è facile da seguire perché basta vedere quali erano i musicisti che rappresentavano le loro opere alla corte di Versailles per capire che cosa avesse attratto l'attenzione del sovrano inglese poco prima di ripartire per Londra. Quindi se pensiamo alla musica eseguita alla corte di Luigi XIV, pensiamo a personalità come Lully, Charpentier e diversi altri autori meno famosi ma ugualmente molto attivi. E quindi l'idea che il modello di Didore Denea sia stato in qualche modo anticipato da micro opere alla francese rappresentate a Versailles ha preso molto l'attenzione degli specialisti. Ascoltiamo un frammento, per esempio, di un'opera che è considerata un immediato predecessore di Didore Denea scritta da Marc-Antoine Charpentier ed è La descente d'Orfée aux affaires che è una situazione molto tipica dell'opera del Seicento, pensate un'altra storia di Orfeo che cerca di liberare Euridice, ma molto alla francese in cui, per riassumerla in maniera proprio barbara, il gusto è dato al recitativo che spiega la storia, le arie sono meno importanti rispetto a quelle italiane, meno liriche e tutto il divertissement è giocato sugli ornamenti. Quindi se possiamo sentire un brano di Euridice da La descente d'Orfée di Charpentier. Grazie. E infine, parlando di qualcosa che è collegato alla nascita di Didore Denea in Inghilterra, avevo già citato il ruolo di John Blow e per darvi un primo assaggio di cosa potesse essere l'atmosfera che già esisteva in Inghilterra prima che Purcell componesse il suo Didore Denea, ascoltiamo anche qui un frammento da quello che è considerato l'immediato precedente per Didore Denea sul suolo britannico. Venus and Adonis di John Blow è una microopera esattamente come quella di Purcell, ha una struttura di una durata al massimo di un'ora formata da una struttura veramente molto simile con questa storia di amore che finisce tragicamente e però le similitudini non si fermano a questo. Noi abbiamo la prova che l'opera di Purcell sia stata rappresentata almeno una volta durante la vita dell'autore, se non due, in una scuola di ballo di Londra per giovani ragazze. Spiegherò dopo perché la data è stata anticipata al 1688 anziché 1689, ma quest'opera di John Blow, questa operina di John Blow pure è stata rappresentata nella stessa scuola, nella scuola di questo ballerino Joshua Priest. Quello che aiuta a capire meglio la genesi di Didore Denea è il fatto che però questa operina di John Blow, si sa per certo, è stata rappresentata prima che nella scuola privata alla corte di Carlo II. Quindi noi abbiamo una ragionevole certezza che anche l'opera di Purcell fosse nata, almeno originata come prima idea per essere rappresentata alla corte di Carlo II e quindi in perfetta sintonia con questo cammino che vi stavo cercando di spiegare il più possibile semplicemente, ossia di come il re, tornato dal lungo periodo di esilio, avesse voluto circondarsi di atmosfere alla francese che però usassero necessariamente anche la straordinaria eleganza e forza della musica italiana. Ascoltiamo quindi il brano di John Blow che alla traccia 8, partendo però per cortesia dalla metà della traccia in dissolvenza, fa sentire il dialogo tra Venere e Adone che dichiara imprudentemente di voler morire sul seno di Venere e poi per un incidente imprevedibile muore sul serio. Questo era The Rural Music, la musica rurale, la musica contadina e sono cose, sensazioni molto simili a diverse parti di Didone e Denea in cui adesso però è giusto cominciare a entrare un pochino. musica francese è sicuramente la facciata di presentazione, tanto che la nostra opera si presenta con un overture, overture bipartita, una parte un po' più lenta, poi a un certo punto c'è scritto quick, presto, bisogna prenderla presto. Gli esecutori di questa edizione, tra le tante che esistono discografiche, hanno presa troppo alla lettera, quindi sentiremo un presto troppo presto, ma proviamo a sentire questa overture di Didone e Denea. È forse giustificato dal nome di questo complesso l'esecuzione perché si chiamano musica vulcanica. È il primo complesso di strumenti antichi, l'orchestra barocca nata in Russia, quindi è una curiosità che avevo fatto sentire con un direttore greco che si è imposto per la sua diversità e quindi c'è anche la voglia di fare cose diverse rispetto a tanti dischi che sono stati già pubblicati. Certo, a me dispiace che in genere si perda, quando si fanno queste interpretazioni così burrascose della musica del 6 e 700, si perdano alcuni caratteri retorici. Per esempio, questa seconda parte è sì quick rispetto alla precedente, però vuole esprimere il battito cardiaco dell'emozione degli spettatori che devono cominciare a entrare in sintonia con quella che sarà la storia, dove Didone si presenta già con una esclamazione di dolore, ah, e finirà la sua storia con suicidio. Quindi è un po' strano questa esuberanza, mentre invece immaginate la tutta 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 tutta, questo battito cardiaco che vi è fuori nella seconda parte dell'Overture, sicuramente più convincente. Per quanto riguarda la struttura di quest'opera, io continuo a chiamarla opera, è un termine generico, opera intesa come opus, non significa che sia un'opera. E che cos'è Didone e Denea? Appunto questo sarà il problema dominante, è un qualcosa di misterioso anche per gli specialisti, perché finché non avremo la prova di perché, quando e come sia stata voluta quest'opera, cosa che nonostante ci siano stati centinaia di scritti, non è stata ancora provata. Quello che è certo è che la struttura, esattamente come quella di John Blow, del suo precedente immediato, è un po' come quella di Charpentier, ma soprattutto come quella di John Blow, si presenta come uno spettacolo tipicamente di corte che in Inghilterra prendeva il nome nel 600 di Musk. Quindi il nome Musk è l'equivalente del Ballet de Cour in Francia, trasformato poi in Opera Ballet e di quelli che anche in Italia esistevano, nonostante la presenza del melodramma, noi spesso ce lo dimentichiamo, le corti facevano la stessa cosa che facevano i sovrani nelle altre corti europee, ossia avevano i loro balletti di corte, spettacoli in genere comprensivi di torneo, di combattimenti di armati a suon di musica e con ballo di tutti gli invitati, con ballo finale. La struttura di un Musk seicentesco inglese si era stabilizzata al tempo di Giacomo Stewart e poi di Carlo I, appunto il re che fu decapitato, per cui creò questa grande impressione in tutta Europa. Ne parlano anche i tre moschettieri di Dumas, quindi la struttura di un Musk è il contrario di quello che noi possiamo immaginare fosse uno spettacolo shakespeariano, tanto che si costruirono dei teatri apposta, diversi da quelli per il teatro parlato, perché erano spettacoli già maturi, già simili a quelli che potremmo chiamare delle opere balletto, in quanto servivano macchine teatrali servivano ampi spazi per evoluzioni di armati, di danze, cori, balletti, che si succedevano con una rapidità enorme. Una struttura tipo di Musk di corte in Inghilterra prima di Cromwell iniziava verso le 21 di sera e terminava a luna di notte. È ovvio che non tutto è la partitura musicale. È uno spettacolo completo, multimediale diremmo noi oggi, che iniziava con una musica fragorosa, dicevano loro, cioè una sinfonia, e poi presentava una serie di anti-Musk, cioè un Musk si presentava gli anti-Musk. Il Musk raccontava una storia mitologica, per esempio, e gli anti-Musk raccontavano una storia parallela, farsesca, che prendeva in giro gli eroi della storia principale. Quindi, un po' lo vediamo in alcune commedie di Shakespeare, un'idea simile a questa, come Sogno di una notte di mezz'estate, quando c'è la commedia nella commedia, qui ci sono delle scenette che si chiamano anti-Musk. Di solito tutto questo viene inframmezzato da un song, una canzone, e una danza. Ecco, l'ha spiegato perché dura così tanto. Abbiamo, in un caso, l'ultimo Musk rappresentato prima della rivoluzione puritana, dal regista Davenant, presentava 20 anti-Musk, quindi una successione di scenette e poi intramezzate con canzoni, con cori, con danze, e finiva il tutto con un ballo generale di tutti i partecipanti. Quindi, questa è qualcosa di diverso dall'opera, come la intendiamo noi. Però, noi dimentichiamo, e le fonti invece ce lo dicono chiaro, che anche le opere italiane di corte, anche le opere francesi di corte, erano di solito situate in spettacoli come questi. Quindi, era uno degli eventi di uno spettacolo più grande in cui c'erano anche cori, balli, parate, divertimento in generale. Una volta chiarito questo, capiamo che di Dore Denea, che conosciamo noi, è solo una piccola porzione di uno spettacolo che doveva essere sicuramente più complesso, più grande. Già così, però, lo spettacolo che noi possiamo avere non rispetta neppure il libretto che fu stampato in quell'unica occasione in cui siamo certi che l'opera fu rappresentata in una scuola privata di ballo a Chelsea, in quartiere di Londra, per delle signorine che facevano lezioni di ballo con il grande ballerino Priest. 1688-89, nel libretto che sopravvive, noi abbiamo un prologo e abbiamo un epilogo e poi abbiamo una serie di aggiunte che invece nel manoscritto musicale, unico manoscritto musicale superstite, non esistono. Il manoscritto è un manoscritto molto strano, anche questo misterioso, è un manoscritto che fu copiato, pensate, nel 1760 all'incirca, cioè oltre 60 anni dopo la morte di Purcell, forse dall'originale, forse no, non sappiamo, ma sicuramente risente di una serie di rielaborazioni che dimostrano una storia di questa mini opera molto strana rispetto a quella che noi pensiamo possa essere la storia di un'opera lirica. Fu infatti più volte riusata la musica di Purcell, dopo la morte di Purcell, all'interno di altre commedie parlate, quindi come piccolo inserimento musicale, quasi musiche di scena, cambiando addirittura i personaggi, all'interno di spettacoli, tra cui per esempio Misura per misura di Shakespeare, fatto agli inizi del Settecento a Londra. Tutte queste vicissitudini fanno capire che qualcosa che era nato per la corte di Carlo II nella età della restaurazione, intorno al 1684, possiamo immaginare, poco prima che questo sovrano morisse, è stato pian piano portato avanti e rimanipolato fino alla morte dell'autore, dopo la morte dell'autore, ne abbiamo un unico manoscritto tardissimo, quindi abbiamo davanti un testo spettacolo completamente diverso da quello che doveva essere l'inizio, l'origine di tutto quanto e soprattutto molto impietosamente mutilato di alcune parti importanti, pensate, l'inizio e la fine, e nonostante questo vi anticipo, è una partitura perfetta, è una partitura che così regge in una maniera sorprendente, perché? Perché guardando la struttura interna di questi tre atti, della mini opera che noi abbiamo, di Henry Purcell, troviamo un equilibrio, una simmetria, che è quella dei grandi capolavori di tutti i tempi. Poche settimane fa mi è capitato di parlare, di presentare La Bohème, una cosa che non c'entra niente. La Bohème di Puccini condivide con Dido e Innias e con Così fan tutte di Mozart, lo stesso tipo di segreto, è un'opera perfetta, riesce come meccanismo perfettamente, perché è costruita su simmetrie, comincia e finisce con una stessa situazione, in mezzo ci sono alcune altre situazioni che accompagnano verso quello che già si sa che dovrà essere la fine, Mimì si sa dall'inizio che morirà perché sviene appena si presenta in scena, Didone si sa già che morirà, lei sta morendo d'amore e poi morirà per amore. Tutta questa situazione simmetrica è costruita inquadrando nella struttura di un masque, quindi una struttura tutto sommato festosa, gioiosa, fatta di cori, fatta di danze, di balletti, una storia tragica, una storia fortissima, una storia mitica, non entro nel discorso dell'importanza dei simboli di Didone e di Enea per l'Inghilterra del Seicento, che avrà la pazienza di leggere il mio scritto nel libretto di sala di quest'opera, potrà vedere quali sono le tante possibilità di interpretazione, ma sono forti perché gli inglesi consideravano che Enea fosse il loro fondatore. Dopo aver fondato Roma, attraverso i suoi successori, uno dei successori di Ascanio, del figlio, si trasferisce in Britannia e crea la dinastia inglese che avrebbe portato, attraverso una serie di passaggi, al re Artù e poi alla regina Elisabetta, vista come Astrea o Bradamante. Sono una serie di percorsi mitici che fanno capire come dietro le favole, dietro le opere che si facevano normalmente, c'era sempre un'ideologia molto forte. Basta pensare al re Sole, che rappresenta continuamente se stesso quando comanda i suoi musicisti di fargli opere o balletti. E quindi, cori e balletti sono parti essenziali di questo divertimento e non contrastano con la storia principale, con la storia tragica. Si sovrappongono in una maniera miracolosa, perché è miracoloso l'uso che Purcell fa di tutto il materiale musicale. La competenza acquisita, sia nel genere recitativo, sia nel genere contrapuntistico, sia nel genere melodico legato alle arie, nel ritmo della danza, nell'insieme fragoroso dei cori e dell'orchestra, è sempre a un livello massimo possibile per quell'epoca. A questo punto vi faccio sentire la cosa meno importante dell'opera, il brano numero 6, e ve lo spiego subito dopo averlo sentito. Perché è la cosa meno importante? Perché questa musica non è di Purcell, ma lui, o chi per lui, nella partitura ha lasciato l'indicazione «A dance, guitars, chacconi», quindi inserire una chaccona, un ballo di chaccona fatto con le chitarre. Ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è pensare che quel punto è perfetta, una chaccona fatta solo con due chitarre. Prima che si chiuda l'atto primo, con una danza di trionfo, un trionfo abbastanza paradossale, perché sta per morire di done, però c'è il trionfo. Questa è una delle caratteristiche insular, una delle caratteristiche britanniche di Purcell, la capacità di prendere quella che è un'eredità grande trasmessa dagli italiani, le variazioni su basso ostinato, cioè un basso che torna sempre, si chiama ostinato, quello della follia, della ciaccona, della passacaglia, queste danze che si ripetono continuamente su un modulo ipnotico di ballo e su cui si fanno variazioni. I francesi erano stati bravissimi a subentrare agli italiani nel fare variazioni su questi bassi ostinati, ma gli inglesi cominciano ad avere una padronanza assoluta di questo mondo delle variazioni su ground, su basso. Quindi i ground di Purcell sono fenomenali perché c'è questa capacità di sfruttare una cellula ipnotica con elementi semplicissimi che comunicano immediatamente qualcosa di comprensibile a tutto l'uditorio. Quindi, perché vi sto facendo questo discorso? Perché, al contrario di questa ciaccona improvvisata dai chiterristi che oggi tutti coloro che fanno musica antica con strumenti originali sanno improvvisare nello stile dell'epoca esattamente come si faceva nel Seicento quindi va benissimo l'indicazione originale della partitura Purcell scrive tre bassi ostinati cioè tre variazioni, tre arie importanti, fondamentali le tre arie fondamentali i tre momenti fondamentali dell'opera sono costruiti su ground su un bass ostinato all'inizio, a metà e alla fine dell'opera quindi ancora simmetrie ancora una capacità di organizzare forme complesse nella maniera più semplice e più comunicativa questo qualcosa di ipnotico che ci prende e ci conquista dall'inizio e ci consente di arrivare alla fine in una maniera naturale prendendoci per mano proprio lo vedremo quando arriveremo all'ultima variazione quella del lamento di done su basso appunto su ground su basso ostinato per quanto riguarda le danze le danze sono importantissime in questo mini capolavoro sono molte di più quelle previste nel libretto rispetto a quelle che ci sono arrivate anche perché c'erano tantissime danze nel prologo c'era una danza dei tritoni una danza delle nereidi una danza delle niffe e della primavera una danza di pastori e pastorelle contradanza tutte queste non ci sono arrivate però fa capire che il prologo doveva comunque avere una sua durata e agire come un mask come una grandissima occasione di divertimento con tanti balli diversi su cui si intersecavano interventi vocali solistici o coro infatti la gran parte della struttura è fatta di cori balli interventi solistici che emergono dal coro o finiscono nel ballo quindi tutto il raccordo è come se facendo una specie di gioco di costruzione quando vi ho detto che abbiamo togliendo l'overture e togliendo il prologo abbiamo tre atti in cui in ogni atto c'è un'area principale su basso come ho detto su ground e poi cominciamo a costruirci su ci mettiamo dei cori e ogni coro spezzato da interventi vocali solistici prima o dopo e questi interventi conducono a un ballo allora anche noi possiamo giocare a comporre a ricomporre Didone e Denea provando a vedere a seguire questi blocchi questi blocchi ci presentano personaggi strani quindi abbiamo tre personaggi principali che lasciamo per ultimi e abbiamo una serie di personaggi strani un grande spazio per esempio è dato all'inizio del secondo atto a dei personaggi stranissimi un gruppo di streghe che diventano protagoniste anche perché senza quello che macchinano queste streghe o per meglio dire una strega capo la maga diremmo noi nella tradizione italiana e alcune streghe sorelle secondarie che fanno che cosa fanno fabbricano il finto Mercurio visto che Giove non esiste nella storia di Didone Giove a un certo punto deve mandare Mercurio per dire a Denea di andare via dal letto di Didone perché deve andare a fondare Roma quindi la storia è questa inutile che vi racconti la trama di Didone e Denea però quando ci si rende conto che non c'è presenza sovrannaturale non ci sono gli dei bisogna che qualcuno di materiale costruisca questo la giustificazione perché Denea se ne vada Denea anche in quest'opera come in tutte le opere del 6 e 700 fa la parte dello stupido fa la parte proprio di chi del bacchettone che il Pio Denea che accetta addirittura qui accetta un falso ordine di Mercurio che è un idolo costruito dalle streghe e se ne convince dice subito è però peccato per Didone proprio adesso che mi ha ceduto il suo corpo dopo tanti tempi aveva rinunciato e adesso me ne devo andare le streghe sono ovviamente le streghe di Macbeth sono una presenza che viene dalla letteratura inglese quindi una forte connotazione hanno un altro mistero interno il mistero della voce della maga secondo me Purcell aveva chiaro nella testa il più importante modello di maga dell'opera del 600 che aveva sentito ce ne sono già tante di maghe che poi con Handel arriveranno ad avere titoli interi di opere per loro però il più importante modello era ancora quello della Medea che canta nel nel Giasone di Cavalli un'aria davvero impressionante chiama evoca gli spiriti dall'antro cercando di farli arrivare a favore del suo Giasone e se adesso ascoltiamo il brano invece come modulato da Purcell con la maga che chiama le sorelle per rovinare Didone vuole far praticamente distruggere Cartagine attraverso questo stratagemma di far andare via Enea proviamo a sentire quindi il brano numero 7 quindi l'importanza di questa scena paratattica perché appunto senza questa macchinazione non si spiegherebbe perché Enea deve lasciare proprio in quel momento Didone è in realtà a sua volta una citazione letteraria molto forte per gli inglesi una cosa che noi non potremmo capire e la voce della maga è stata oggetto di fiumi d'inchiostro sono stati scritti ma la maga è una donna è un uomo travestito da donna per renderla più misteriosa fino a che non si è scoperta una testimonianza che almeno in una occasione il ruolo della maga è stato cantato da un uomo una voce tra l'altro doveva essere di basso baritono per rendere la situazione più forte più emozionale un piccolo errore che fanno in genere quasi tutti coloro che interpretano questa parte l'ha fatto William Christie per esempio nel DVD che esiste della Didone Denea in cui lui tra l'altro fa anche una lezione sulla Didone Denea molto bella con Les Arts Florissants in cui però interpreta questa parte delle streghe come una parte di presa in giro una parte scherzosa ironica con le streghe che cantano tutte con la voce nasale e anche la strega principale fatta da un controtenore un cantante maschio che fa finta di essere donna si perde in questa maniera pensandola in maniera scherzosa si perde un elemento veramente fondamentale non potremmo mai immaginare le streghe di Macbeth in maniera scherzosa loro sono parte di un vaticinio quindi sono un ingrediente essenziale per il dramma e in realtà anche quando c'è qualcosa di scherzoso in quest'opera viene subito contraddetto quindi non c'è una possibilità di vero scherzo proviamo a vedere per esempio cosa succede in un ballo di marinai se riusciamo a vederlo questo numero 9 the sailors dance con una compagnia di danza quella la famosa rappresentazione della Mark Morris dance fatto al teatro della Monet nel 1989 il brano che non possiamo vedere era la danza dei marinai che interpretati da un balletto contemporaneo in realtà fanno una parte molto scherzosa se pensate che è l'inizio però del terzo atto e serve di contrasto per poter arrivare all'epilogo l'epilogo ovviamente è l'epilogo peggiore che esista cioè la morte di Didone la presenza di Enea in questa chiamare semplicemente Didone Dido e non Dido and Ineas perché pur essendo naturalmente scritta benissimo qualsiasi parte canti Enea non ha nessun rilievo psicologico ed è fatto ed è voluto questo perché l'eroina deve essere la regina cartaginese questo succedeva anche nel modello che ha seguito Purcell il modello continentale della prima Didone operistica la Didone di Francesco Cavalli di cui esiste un DVD poterlo quindi fare un confronto tra il trattamento generale della storia e nella Didone di Cavalli c'è un'unica differenza ma sostanziale la Didone per Cavalli non muore non si suicida siamo nel 1641 a Venezia l'opera poi sarà ripresa anche a Napoli nel 1650 è un'opera veramente importante nella storia dell'opera italiana del 600 eppure si presenta così insolita nel suo lieto fine Didone è abbandonata da Enea sta per trafiggersi con la spada ma arriva Iarba il suo spasimante rinsavito all'ultimo momento e la salva e allora Didone vede Iarba e dice beh non è male mi sposo lui e vissero felici e contenti questa fine si può capire solo perché siamo a Venezia nell'epoca di maggiore importanza dell'Accademia degli Incogniti un'Accademia che predicava il libero amore la libertà sessuale la felicità su questa terra in opposizione con tutto quello che la controriforma stava facendo pesantemente scontare all'Europa con la guerra dei 30 anni invece la Didone per gli inglesi deve morire ma perché è strano se fosse uno spettacolo di corte e il re che figura ci fa Carlo II se dovesse essere immedesimarsi in Enea che fugge e lascia Didone la lascia morire ma chi è Didone è la nazione inglese è vero quello che hanno scritto che dovrebbe rappresentare la la religione protestante minacciata dall'arrivo di un cattolicesimo pericoloso cosa che avverrà perché il successore di Carlo II diventa cattolico e poi tutta una serie di altre interpretazioni più o meno così altisonanti simboliche nella realtà a Purcell interessa la figura tragica il dramma e viene consumato all'interno di schemi che sono quelli dell'opera sia italiana sia francese ossia l'utilizzo di tutte le strategie per comunicare gli affetti barocchi far venire il brivido allo spettatore questa cosa però visto che prima ho citato Puccini non è diversa da quello che poi faranno i compositori nel settecento nell'ottocento nel novecento ossia comunicare il dramma attraverso il brivido della musica andiamo a vedere a questo punto come va a finire l'opera visto che stiamo arrivando verso la conclusione per la fine con il lamento di Didone che è come vi ho detto prima uno dei tre punti cardine pensate all'equilibrio strutturale di quest'opera in cui addirittura ogni personaggio ha una tonalità in cui canta associata al personaggio questa cosa è qualcosa che siamo abituati a pensare collegata a qualcuno più tardi questa idea di avere dei temi o delle modalità di presentarsi riconoscibili il sol minore è la tonalità di Didone il re minore è la tonalità di Enea in mezzo si situa la damigella di corte che è Belinda in quest'opera sarebbe Anna in altre opere cioè la sorella di Didone in questo caso è la damigella di Didone che tra l'altro una curiosità viene chiamata Elissa in più punti dell'opera e anche nel libretto Elissa era il vero nome di Didone nella tradizione storica perché Didone è un personaggio storico c'è un bel libro del Bruno Mondadori editore degli anni 90 scritto da Bono e Tessitore due ricercatrici che hanno esaminato tutte le storie di Didone nella letteratura e nell'arte e il il carattere di Belinda si viene confermato dalla sua tonalità si bemolle quindi tra il sol e il re viene fuori un si come a dire confermo si è proprio questo è una è una donna che dà conferme all'inizio dà conferma a Didone dell'amore di Enea di stare sicura di lanciarsi alla fine non può che confermare quando chiede la sua mano Didone per apprestarsi a morire di essere vicino alla sua regina si potrebbero fare tanti giochi per esempio pensate il re di Enea messo accanto al sol di Didone come possa far venire fuori un re sol cioè un re sole però la cosa che in un ascolto come quello che stiamo per fare adesso il raccomando è provare a seguire come un autore come Purcell abbia potuto prendere una linea semplicissima come vi ho detto prima è un basso ostinato è una sono una successione di note basse che si ripetono uguali su cui si crea una melodia e su questa successione abbia saputo con un semplice trucco quello dei grandi compositori rinascimentari inserire il cromatismo inserire dei passaggi di croma cioè tra una nota e l'altra anziché fare sol fa mi re tipico lamento barocco discendente inserisce sol fa diesis fa mi mi bemolle re cioè tutti i passaggi cromatici che conducono da una cosa all'altra e invece di farvi sentire un ascolto filologico da incisioni da tante dalle decine di incisioni con strumenti antichi più o meno recenti che esistono voglio provare a farvi sentire la mia didone ideale che è forse la prima registrazione che io avevo trovato comprato l'LP che mi ha incatenato a quest'opera e che alcuni di voi conosceranno l'edizione con Tatiana Troianos del 1967 con Sir George MacKerras Charles MacKerras del del lamento finale di Didone ed Enea ecco si può sfumare su questi queste voci il coro degli amorini porta verso l'alto l'anima di Didone che non c'è scritto non c'è nessuna didascalia non si capisce come muoia ma muore evidentemente mentre canta è una morte straordinaria morire cantando e emozionando incantando sembrerebbe quindi che questa fine sia perfetta con gli amorini che portano verso l'alto le voci di bambini e poi dopo di tutto il coro che porta lievemente verso l'alto invece l'originale finiva con la danza degli amorini cioè finiva come un mask con una danza allegra di felicità di tutti quanti un po' come Don Giovanni come queste cose che ci sembrano strane che finiscano in modo non tragico o comprensibile è remember me ha non forget but ha forget my fate la importanza di ogni singola parola nel Dido and in mias infatti voglio finire con questa con questa idea perlomeno perché abbiate una possibile visione la mia visione dell'importanza di Didone ed Enea indipendentemente se fosse stato fatto come spettacolo di corte nel 1682 83 84 o fatto direttamente come spettaggio di danza cosa molto improbabile nel 1688 89 o rimanipolato poi nel 700 la lingua fa la differenza la lingua dà quella risposta insular che cercavano gli intellettuali inglesi e che avevano individuato come potenzialità nel giovane compositore la promessa la premessa le sonate che abbiamo già letto all'inizio scritta da Purcell nel 1683 chiariva che gli inglesi non erano ancora preparati stavano studiando la lingua italiana e l'aria francese e che avrebbero presto fatto maturare queste due cose insieme Addison nella sua rivista Spectator del 1711 e l'anno del Rinaldo di Handel scrive gli artisti italiani non possono condividere l'ammirazione per le composizioni di Purcell dei nostri musicisti inglesi e comprendere come le sue melodie siano meravigliosamente adattate alle parole perché le due nazioni non esprimono le stesse passioni con i medesimi suoni quindi è una dichiarazione molto forte è rivolta e rivolta agli italiani che andavano in Inghilterra pensando di fare facile successo con l'opera italiana bisognava stare attenti e dovevano capire attraverso la musica di Purcell quello che gli inglesi trovavano importante nell'opera il legame tra la musica e la loro lingua non una lingua qualsiasi Henry Prayford nel pubblicare la raccolta postuma in due volumi nel 1696 diarie di Purcell appena morto che lo consacra come l'Orfeus Britannicus quindi è una grande apologia che serviva ideologicamente per piazzare nella memoria per sempre Purcell come il creatore dell'opera nazionale inglese dice tutti conoscono lo straordinario talento di quest'autore in qualsivoglia sorte di musica e tuttavia egli fu soprattutto ammirato per il genere vocale per il suo particolare ingegno nell'esprimere l'energia delle parole della lingua inglese attraverso cui egli muoveva le passioni di tutti coloro che laudivano siamo quindi di fronte a un programma molto chiaro che sarà ribadito qualche anno dopo da Charles Burney nella sua prima storia della musica History of Music General History of Music Purcell è Our Musical Shakespeare quindi è il nostro Shakespeare musicale è questione di lingua di orgoglio nazionale di legare la musica alla lingua Purcell aveva meno di 30 anni quando aveva composto il minidramma Dido and Ineas sul testo di Tate sarebbe sopravvissuto ancora solo pochi anni solo i più grandi compositori di tutti i tempi hanno saputo creare opere che commuovono gli ascoltatori in epoche diverse rispetto alla moda contingente del momento per il suo ruolo nell'inaugurare il miraggio dell'opera nazionale inglese Harry Purcell fu definito appunto Orpheus Britannicus o Our Musical Shakespeare dopo l'ultima ripresa di Don Edenea nel 1704 l'arrivo in Inghilterra delle prime opere italiane e poi soprattutto l'arrivo in Inghilterra di Handel chiude definitivamente questo sogno patriottico questo questo miraggio di avere la terza via rispetto al predominio dell'opera italiana e dell'opera francese e per paradosso Londra diventerà il vero centro dell'opera italiana per i decenni successivi quindi la morte di Henry Purcell ha fatto sì che Dido Endenius sia la prima vera opera completa nazionale inglese ma anche l'ultima grazie 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 grazie